Quando incontri qualcuno che crede a qualsiasi cosa è perché l'ha visto alla televisione. Non siete delle scimmie che si sono tramutate da un pesce, nate per caso, che vivono su una palla che si muove e gira come un cavatappi all'infinito. Questo è quello che la classe che comanda vuole farvi credere perché così li accettate e accettate anche il loro sistema, un sistema che sta in piedi col denaro come fosse il vostro Dio. Quello che vogliono farvi credere è che vivete in un universo ostile, pieno di scarsità, di guerra, di paure, così sentite il bisogno di essere protetti dai governi, corrotti e dagli stati che sono società. Usano sempre il vecchio trucco. Si chiama soluzione di reazione al problema e non sbagliano mai. Sono sempre loro quelli che creano il problema per causare la reazione al loro desiderio. Infatti, sono sempre loro medesimi che offrono la loro soluzione. Sanno come funziona ed opera la psiche umana. Così sono in grado di programmarci a livello subliminale e neurolinguistico come si fa con un drone. Quello che non sapete però è che la vostra mente invece è la cosa più potente di questo mondo. Ecco perché viene continuamente sedata, oppressa, calcificata ed intrappolata per tenervi in gabbia, specialmente a livello mentale, così non sapete nemmeno che siete schiavi mentali. Tutto ciò che consumate per nutrirvi è stato modificato, è manomesso per causare malattia al posto della salute. Questo sistema di vita alimenta morte e distruzione, anziché vita e creatività. Volendo possiamo già comandare e cambiare questo mondo con molta semplicità. Tutto ciò che fa la classe dominante è approfittare della nostra esistenza sottomessa. È tempo di liberare la mente, iniziare ad avere fiducia nel proprio intelletto e smettere di fidarvi e consultare le persone, i guru di turno, i device che attraverso le news vi dicono cosa dovete fare. Soluzione? Spegnete tutto e tornate liberi, libere. Se desideri informarti su tutte le più grandi menzogne del sistema, anche quelle che non avresti mai pensato, usa il fornito indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu e scoprirai anche quello che i media di regime non permettono di pubblicare. Oltre a Canal 104 Plus, c'è anche il canale YouTube Dino Tinelli. Il libro in bianco e nero Il Risveglio raccoglie le prime esperienze vissute nella pubblicazione dei video. C'è anche la versione a colori solo sul formato ebook. Attraverso Paypal è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di essere arrivati fino in fondo al video. Grazie a tutti.